Finalmente incontriamo di persona questo grande personaggio televisivo, come vai oggi qui da Amara? Sì, da Amara, da Amara, domenica in. E ballando con le stelle come va? D'addio. D'addio, eh? D'addio. Lì, mi saluti tanto la conduttrice, perché io ho fatto, scommettiamo che con lei nel 93-94 tutta la stagione. Bene, bene. Voi siete che tv? Che cosa siete? Io sono per tre testate giornalistiche locali dei Castelli Romani, ma in più ho un video, ho un canale su YouTube, dove ci sono 650 video. Bene, allora un saluto ai Castelli. Mandiamo un buon Natale a tutti. Buon Natale. Baci. Ciao, grazie. Buon Natale a tutti.